Possiamo guardare il servizio di Francesco Di Mario e poi linea allo studio. Il Recovery Plan, nome completo piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato approvato dal governo il 12 gennaio scorso ed è all'esame del Parlamento. Il documento spiega come l'Italia userà la sua quota del Next Generation EU, il programma varato dall'Unione Europea per riparare i danni provocati dalla pandemia di Covid. Il Recovery Plan va presentato alla Commissione Europea entro il 30 aprile 2021. Bruxelles ha otto settimane per esaminarlo e trasmetterlo all'Ecofin che ha un mese per approvarlo. Rispettare i tempi è importante anche per avere accesso ai 25 miliardi spendibili già quest'anno. A disposizione dell'Italia ci sono circa 224 miliardi di euro, 312 considerando anche i fondi per la coesione. Risorse che vanno impegnate entro il 2023 e spese entro il 2026. Come previsto dalle linee guida europee, il Recovery Plan italiano destina la spesa maggiore a rivoluzione verde e transizione ecologica, ad esempio energie rinnovabili e idrogeno pulito, seguita da digitalizzazione, innovazione e mobilità sostenibile. Ingenti anche le risorse per istruzione e ricerca, inclusione e coesione e ovviamente sanità. E ora la pandemia nel nostro paese per la rimodulazione del piano vaccinale nel pomeriggio.